Ma bentornati in una nuova puntata di Whatsapp Economy. Oggi vi vorrei raccontare un po' la mia esperienza all'interno del mondo delle criptovalute perché ormai è da qualche mese che ci sto dentro. Parleremo innanzitutto dell'app che ho utilizzato per comprare e vendere le criptovalute, qual è stato il mio approccio di investimento riguardo questo nuovo strumento e infine parleremo anche di tasse perché oltre ad essere un argomento molto importante quando si parla di investimenti me lo avete chiesto anche voi e ne parleremo proprio in questa puntata. Innanzitutto partiamo dalle basi, come acquistare e vendere criptovalute. Io sto utilizzando Crypto.com che è anche lo sponsor di questa puntata. Crypto.com è un exchange di criptovalute, quindi praticamente in pochi e semplici passi posso depositare i miei soldi all'interno dell'app Crypto.com per poi andare ad acquistare e vendere criptovalute. Quindi non solo il bitcoin ma in realtà all'interno dell'app ci sono decine e decine di criptovalute che possono essere acquistate e vendute. Sinceramente io mi sto trovando molto bene ad utilizzare l'app Crypto.com ma non perché lo sponsor ma perché se fosse il contrario ovviamente non ve ne parlerei. Come abbiamo visto è molto facile ed intuitivo utilizzare l'applicazione e entrare all'interno del mondo delle criptovalute. Per di più la scelta è molto vasta, quindi sicuramente avrete l'imbarazzo della scelta nel decidere su quale criptovaluta investire i vostri soldi. Le transazioni e gli importi all'interno dell'app possono essere visualizzati con gli euro, i costi di commissione sono bassi. Ad esempio voglio caricare soldi all'interno dell'app, con un modifico i costi di commissione sono pari a zero. Oppure ancora voglio scambiare criptovalute con criptovalute, anche lì al momento della transazione non si pagano costi di commissione o anche acquistare criptovalute all'interno dell'app. Non c'è alcun costo di commissione. Uno dei pochi costi da dover sopportare, ad esempio, è quello di dover vendere la criptovaluta e tornare in euro. Ma tutti i costi sono ben specificati all'interno dell'app e non c'è sicuramente alcuna fregatura. Ho anche un codice sconto per voi, e cioè WhatsApp Econui. Infatti se durante l'iscrizione utilizzate questo codice e vi impegnerete ad attivare una delle loro carte di debito, allora potrete ottenere anche 25 dollari bonus e potrete sostenere anche questo progetto di divulgazione economica. Ebbene sì, Crypto.com ha anche le carte che vi permettono di pagare, ad esempio, le gomme da masticare al tabacchino tramite le criptovalute in possesso all'interno dell'app. Vi ho detto l'app che utilizzo, vi ho lasciato anche un codice sconto, adesso scendiamo un po' sul pratico, raccontandovi l'approccio riguardo questo strumento, specificando che non c'è alcuna intenzione di consigli finanziari, bensì vi sto semplicemente raccontando la mia esperienza. Innanzitutto credo sia essenziale conoscere lo strumento su cui si sta andando a mettere i propri soldi. E questo consiglio non vale solo per le criptovalute, ma anche su tutti gli altri asset finanziari classici. Nonostante lo sponsor, ho sempre cercato di darvi un approccio critico riguardo questo strumento. Ad esempio, abbiamo visto come si creano i bitcoin e anche le conseguenze ambientali della creazione di questi bitcoin. Oppure ancora, ho sempre specificato che il bitcoin è uno strumento altamente volatile e quindi sconsigliato a persone poco esperte di questi strumenti. Abbiamo anche smontato alcuni luoghi comuni, come ad esempio il fatto che i bitcoin non possono essere considerati una moneta. E questo vale nonostante Tesla si sia impegnata a vendere le proprie macchine tramite i bitcoin. In quanto in economia è più corretta una equiparazione ad un asset finanziario. Infatti molto spesso si parla del bitcoin come un nuovo oro digitale. Oppure ancora abbiamo smentito il mito dell'albing, molto in voga nell'ambiente cripto. Se ne volete sapere di più, andate a vedere questo video. E alla fine ci siamo chiesti quanto vale un bitcoin, in quanto il valore intrinseco è pari a zero, è semplicemente una linea di coge. Ma la stessa cosa si potrebbe dire delle banconote, ad esempio. Mentre per il valore estrinseco, anche qui le opinioni saranno tra le più discordanti. C'è chi nonostante tutto reputa il bitcoin come una moneta digitale, c'è chi lo reputa come uno strumento di investimento e speculativo, oppure altri che reputano il bitcoin come uno strumento che può salvaguardare la propria ricchezza dall'inflazione delle monete fiat. In tutto questo trambusto ho trovato una teoria che potesse accumulare un po' tutti questi punti di vista, anche molto spesso così distanti. Sto parlando della Metcalfe's Law, che praticamente associa al bitcoin dei veri e propri meccanismi di un network. E quindi più questo network si diffonde, diventa comune, e più persone danno un qualche tipo di valore a questo strumento economico, e allora a quel punto più il valore del bitcoin aumenta, fino a poter raggiungere tranquillamente valori molto alti, come ad esempio 100-150 mila dollari e oltre. Fatte tutte queste considerazioni, da qui nasce il mio approccio nei confronti dello strumento finanziario, che si basa principalmente su due pilastri. Il primo pilastro è una visione di lungo periodo, e il secondo pilastro è quello di un approccio all or nothing, vincere o perdere. Partiamo dal primo. L'approccio di lungo periodo è determinato dalla teoria del valore che ho dato al bitcoin, cioè la Metcalfe's Law. In quanto questa legge riesce a predire il valore del bitcoin solo nel lungo periodo, e in realtà nel breve periodo questa legge è abbastanza inutile, infatti non riesce a predire i piccoli o i grandi scostamenti che avvengono all'interno del sistema bitcoin nel breve periodo. Ad esempio, c'è stato un periodo di forte speculazione nei confronti del bitcoin, dove il valore del bitcoin si discostava ampiamente dal valore predittivo della Metcalfe's Law. Quindi il mio approccio nei confronti del bitcoin è assolutamente lontano da quello di un trader. Non solo per i motivi che vi ho detto prima, cioè che la Metcalfe's Law non mi aiuta ad essere un buon trader, ma anche per dei motivi personali. Ad esempio, anche nei mercati finanziari classici, non ho assolutamente un approccio da trader che va ora dopo ora a controllare la situazione del mio asset finanziario. Io sono più per un approccio molto pratico, mi piace molto di più spendere il mio tempo per costruire qualcosa di personale, vedere qualcosa che cresce davanti a me e non vedere un grafico che va a su o a giù. Questo è un puro e semplice approccio personale, non dico che sia giusto o sbagliato. Per di più, stiamo parlando di un asset finanziario altamente volatile e giovane. E quindi trovare una teoria che mi permetta di diventare un trader migliore è alquanto difficile e con non pochi problemi a livello scientifico. Io su internet ho visto molta gente trovare la propria teoria per predire al meglio le piccole variazioni del bitcoin per guadagnare il più possibile da questo mercato, da gente che parla di resistenza a persone molto rispettabili su campi che non sono quelli dell'economia, disegnare triangoli su dei grafici. Con un approccio aneddotico è basato sulle proprie impressioni personali, lontanissimo da creare una teoria replicabile in qualsiasi condizione. Quindi più che parlare di teoria del trader dei bitcoin o di approccio che ti potrebbe far diventare ricco parlerei semplicemente di intuito o di fiuto, cosa su cui molto spesso non si fa molta attenzione nei corsi che vendono per appunto operare all'interno di questo mercato in quanto molto spesso poi le persone si trovano scottate e con molti meno soldi rispetto a quando hanno iniziato questa avventura. Quindi il mio appello è, ragazzi, state attenti alle persone che vi parlano di come fare soldi facili con i bitcoin, in quanto se fosse così semplice saremmo tutti ricchi grazie ai bitcoin, cosa che purtroppo non è vera. Quindi semplicemente io ho acquistato bitcoin e altre criptovalute e le ho lasciate lì banalmente. In questo periodo di tempo ho fatto veramente poche transazioni e basate soprattutto sul mio intuito, non ci trovo nulla di male a dirlo più che su un qualche tipo di teoria che potrebbe farmi guadagnare soldi. Ad esempio, guardate questo grafico. Come si può costruire un qualche tipo di teoria che può predire che nel giro di tre mesi la tua valuta può aumentare addirittura del 2600%. E come questo grafico di questa criptovaluta ce ne sono tanti altri. Insomma, mi lasciano molto perplesso le teorie che possono predire il valore del bitcoin in qualche modo e di altre criptovalute. E ora passiamo al secondo pilastro, cioè l'approccio all or nothing. Io ho acquistato queste criptovalute con l'intento di avere un alto rendimento nel lungo periodo. Ma allo stesso tempo sono consapevole che queste criptovalute potrebbero perdere gran parte del loro valore in breve tempo. Come ad esempio lo Stato che potrebbe bannare queste criptovalute. Oppure ancora semplicemente il mercato decide di crollare come è successo anche in passato. Quindi sono assolutamente consapevole sia delle opportunità che dei rischi che comporta questo tipo di investimento. Ad esempio, non mi nascondo che ci sono stati i giorni in cui da un momento all'altro il mio portafoglio contava un surplus molto positivo, c'era il numerino verde bello in evidenza, al giorno dopo in cui il mio portafoglio era diminuito molto il suo valore, quindi c'era il numerino in rosso. E insomma, in quei momenti non mi nascondo che bisogna avere un po' i nervi saldi per non cercare di fare delle scelte sbagliate. E come vi dicevo appunto, questo tipo di investimenti non è assolutamente consigliato a un pubblico poco esperto. Da questo discorso quindi penso abbiate capito che ovviamente non ho investito tutti i miei soldi all'interno delle criptovalute. Bensì ho investito una cifra per cui, se c'è un guadagno anche molto consistente, ben venga. Ma sono pronto, anche in questo momento, a poter perdere tutti i miei soldi all'interno delle criptovalute eppure garantirmi comunque una solita disponibilità finanziaria e la mia vita proseguire a livello economico con non più di tante preoccupazioni. Ma lo so cosa state aspettando. Giorgio, ma alla fine ci hai guadagnato questo investimento? La risposta è sì. Ovviamente non vi dirò la cifra, fatemi i fatti vostri, non sono quello youtuber che dice Quanto ho guadagnato? No, non mi interessa avere questo tipo di contenuti però come vi dicevo ci sono stati dei momenti in cui bisognava avere i nervi saldi in quanto è sceso il mio valore in portafoglio. Però in questo senso aiuta molto l'analisi tecnica che vi ho fatto fino ad adesso per aiutarvi a capire come comportarsi all'interno del mercato. Quindi un po' di guadagno l'ho fatto e la domanda successiva ovviamente è Ma su questo guadagno le tasse le paghi? Com'è la situazione fiscale? Allora, una precisazione importante. Tutto quello che dirò oggi vale solo per oggi in quanto la legislazione nei confronti delle criptovalute potrebbe cambiare in futuro addirittura si prospetta una nuova legge nel 2022. Quindi occhio a quando guardate questo video. E se avete dei dubbi e se volete avere delle conferme riguardo a quanto detto all'interno di questo video cercate sempre di chiedere al vostro consulente tributario. E ovviamente né io né Crypto.com si prendono la responsabilità sulle vostre dichiarazioni dei redditi sbagliate. Quindi occhio. Per capire come muovermi a livello di tasse ovviamente mi sono fatto aiutare dal mio commercialista che mi ha detto che bisogna fare due cose. Una obbligatoria per tutti e una se si rispettano alcune condizioni. La prima cosa da fare per stare a posto col fisco è quello di dichiarare tutte le transazioni che sono avvenute all'interno dell'exchange. E con Crypto.com è molto facile reperire questo tipo di documenti. Con pochi e semplici clic si va a estrapolare tutte le transazioni avvenute all'interno ad esempio dell'anno fiscale. E quindi questo bisogna dichiararlo all'interno del fisco. Ma dichiarandolo comunque non c'è l'obbligo di pagare le tasse su tutte quelle transazioni. E qui arriviamo alla seconda cosa da fare se rispettiamo appunto determinate condizioni. Infatti le criptovalute non hanno una propria posizione ben specifica all'interno del fisco. In realtà vengono assimilate alle valute estere. E per le valute estere si applica l'articolo 67,TER del TUR. L'articolo 67,TER ci dice che se abbiamo dei depositi in valuta estera che hanno un valore superiore a 50.000 euro allora tutte le plusvalenze ottenute dalle transazioni in queste valute estere compongono il reddito personale. E ovviamente sul reddito bisogna pagare le tasse. Ma andiamo sul pratico per capirci. Infatti se ad esempio all'interno dell'app Crypto.com ho 3.000 euro di criptovalute allora in quel caso non c'è alcuna imposizione fiscale ma sono obbligato a dire al fisco tutte le transazioni che ho eseguito all'interno dell'app. Ancora una volta se all'interno dell'app di Crypto.com ho 60.000 euro di controvalore di criptovalute e allora in quel caso non solo devo dichiarare tutte le transazioni eseguite all'interno dell'anno fiscale ma ci devo anche pagare le tasse sulle plusvalenze che sono avvenute all'interno di quel periodo. Ma facciamo un altro esempio per capirci ancora meglio. Se infatti ad esempio ho 30.000 euro di criptovalute all'interno di Crypto.com e poi ho altre 30.000 euro in un deposito estero a quel punto per il fisco conta la somma di tutti i depositi intrattenuti all'estero quindi 30.000 più 30.000 che superano la soglia di 50.000 euro e quindi a quel punto su quella somma si andranno a pagare le tasse. Spero di avervi fatto un piccolo quadro. Come al solito per maggiori dettagli vi consiglio caldamente di andare a chiedere al vostro consulente. Quindi vi ho fatto un piccolo quadro fiscale. C'è un obbligo per tutti di dichiarare tutte le transazioni avvenute per le criptovalute e un secondo obbligo se c'è la condizione per cui tutti i depositi esteri che ho in mio possesso superano un valore di 50.000 euro. Tra l'altro Crypto.com ha anche delle affiliazioni con altre app esterne per monitorare al meglio la vostra situazione fiscale nel caso in cui abbiate ad esempio più exchange di criptovalute. Vi lascio il link in descrizione se volete approfondire. Però vi ripeto e vi consiglio caldamente di consultare il vostro commercialista se avete qualche tipo di dubbio oppure avete qualche situazione economica un po' più complicata degli esempi che vi ho esposto precedentemente. Quindi vi ho fatto un quadro fiscale vi ho raccontato la mia esperienza con le criptovalute attualmente vi ho detto anche quale app utilizzo vi ho lasciato anche un codice sconto Whatsapp Economy Direi che per oggi è tutto e ci vediamo alla prossima puntata di Whatsapp Economy Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!